Ciao a tutti ragazzi sono Bazzardia e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo in un video vlog In cui ci divertiremo un po' con la mia nuova pallina Che è A sto punto metto la canzone di Gigi e la costina Però non so se è portato a copyright quindi è meglio evitare E vi devo parlare di una cosa importante Virtual Games è una persona che porterò nel mio canale Che praticamente piace la PS4 ed è per uno dei tanti motivi che ho portato il controller Finalmente la ricerita E' stato davvero bellissimo Però sono un po' Però dove c'è le cuffie che Che tipo le mie non si possono collegare alla Playstation Insomma io ho queste cuffie Questo è qua Mentre lui invece ce n'ha un altro tipo E aveva già il filtro incluso Per altro se si gira manuale Sponda questa luce blu Che non so che cosa Però la buona notizia è che quando vi porterò i primi video di Fortnite Giocheremo in coppia con lui Comunque Comunque un'altra ragione che ho portato i joystick Per dirvi se Ovviamente scrivetelo nei commenti Dovete dirmi se portare come serie Sonic Ranger Ovviamente su Playstation Perché su computer mi volete non ce l'ho Poi The Sims 4 Oppure Fortnite Queste tre opzioni potete scegliere Però ce n'è una in più Anzi Due in più che dice Tutti e due oppure tutti e tre Se scegliete tutti e tre cose serie Io sono molto così Se ne scegliete sono una Io sono leggermente così E invece se ne scegliete entrambi Sono tipo così Allora Spero che questo video vi sia piaciuto Non dimenticate di lasciare un sacco di pollici su Iscrivetevi al canale Ti mando la campanellina Per non guardarvi un sacco di nuovissimi video E lasciate un bel mi piace Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao